Il casottone dei nani a Lodi, la rinnovata azienda agrituristico-venatoria dove si caccia in assoluta serenità, beccacce, fagiani, starne, pernici e altro, in un habitat unico, a ridosso dei due fiumi, l'Adda e il nani. In questo video un bel esempio di ciò che significa fare gestione, creando le condizioni per trascorrere belle giornate di caccia con i propri ausiliari. Allora, io sono Lodovico Nesti e possiedo un'armeria a spino d'Adda, caccio da 35 anni e allevo a scopo amatoriale il pointer, questa è Lepra, ha 9 anni, viziotta. È una cagna un po' tutto fare, non è una specialista veccacce, però le ferma bene e le sa cercare. Speriamo oggi di trovarla e speriamo di far bella figura, anche perché ci sono quei cagnacci là, marroni, e bisogna dargli dei punti, assolutamente. Mi chiamo Angelo Madonini, questa è Xendi del Zeppiro, siamo al casottone dei nani, oggi andremo a caccia e speriamo di fare qualche bel incontro, magari anche qualche beccaccia. Buongiorno a tutti, Motti Gian Angelo, oggi ho portato i miei due cani, due Dratar, due Ulisce, cani 10 anni, provene dall'allevamento del Zeppiro, cani che ho conseguito tutte le prove che riguardano i Dratar ad altissimi livelli. Questa è sua figlia, ha 4 anni, Ellen, cani preparati su tutto, abbastanza bravi. Sì, vediamo di fare una bella cacciata, anche un po' di competizione con quel pointer, vediamo un po' se riusciamo a dare il filo da torcere. Vediamo che il primo tentativo sarà di scovare una beccaccia o qualche beccaccia in più, e poi nel proseguo vediamo se avremo fortuna a cercare degli altri animali. I cani sono adatti, polivalenti, possono trovare tutto, trattano tutta la selvaggina, perciò direi che siamo in buone mani. Grazie a tutti. Questo è il Benelli 828 U, un amico me l'ha fatto gentilmente provare, mi sono trovato benissimo, ho deciso di comperarlo. Sono andato da quel signore che ho qua di fronte, a Spino D'Adda, dove c'è l'armeria Colpo in Canna, e l'ho comperato. Mi sta dando delle grandi soddisfazioni e mi sto trovando benissimo. Allora, l'828 è un fucile della Benelli, è un sovrapposto, è il primo sovrapposto che fa la Benelli, ne fa tre versioni, uno nero, che è quello di Angelo, uno argento, un po' più caro, un po' più bello, e adesso è uscito con una versione beccaccia, quindi più corto di Canna. È un fucile che per essere un 12, il 20, lo stiamo aspettando con ansia, devo dire che sta avendo un grande successo. Ne parlano tutti molto bene, ha un'ottima foratura di Canna, spara dalle 24 alle 55 grammi di piombo, è camerato Magnum. Direi che per essere un 12, che adesso è un momento in cui non si vendono, sta avendo un grande successo, veramente un ottimo fucile riuscito. La Benelli l'ha azzeccato, l'ha decisamente azzeccato, questo è quello che posso dire. Ellen, Ellen! Come on! Come on! Ellen, qua, 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 via. Grazie. 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 ma ecco bravo bravo buono bravo disce andiamo 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 bravo la sua è pulissima quasi bello dopo vai, vieni, vai andiamo, andiamo andiamo vieni, vieni, pulisse, andiamo vieni, vieni porca madonna sui dada figa, quasi la va pulisse, vieni, vieni bravo vieni, bravo seduta, dai, vieni, seduta seduta, vieni bravo vieni, bravo spagli la veliera, elettra bravo, bravo, bravo bel lavoro elettra stop, stop stop e dai, vieni, vieni vieni, 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 vieni fin da sta bene dai farà eh, eh, eh pulisse dai pulisse allen, allen 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 vieni, vieni vieni dai dai vieni 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, sì, bello. Merli! Merlo! Eccola qua! Dove conosci questo merlo? Da voi ci sono questi merli. No, questo è un merlo particolare. No, però sai, noi siamo, diciamo sempre che siamo bravi noi, il merito va ai cani, dai. Assolutamente. Prendiamo sempre loro, che sono quelli che faticano, vanno in rovi. Ha fatto un bel lavoro i cani, ho collaborato. E chi ha sparato? Insieme, dai, però l'ho colpita io, sicuramente. Ecco, dice sempre così, perché le volte che andiamo a caccia... All'odo sparra le farfalle, usa delle cacce strane, capito? Qui ha sparato il merlo. Sempre la stessa storia. Noi con quelli occhiali di neri... Ha visto il merlo? No, occhiali neri ho messi adesso. La becca l'hai presa tu. Dopo ripetute cerche, va bene così, dai. Ottimo. Benissimo, dai. Benissimo, dai. Benissimo, dai. Benissimo, dai. Vieni, vieni. Ti amo. Ti amo. Ok, non so. Benissimo. Ok, non so. Angelo, danni in ferma, vieni avanti Giamma Sandy, giam Sandy, Sandy, Sandy Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Angelo, caccia di lì, stiamo Angelo, vieni Angelo Vai, 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 vai Aporta, 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 aporta Klaun, Klaun Liseh Vieni, aporta, dai, aporta Aporta, aporta Non vado a recuperarli. Luise, a porta, dai! Sperati, puntiamo di qua. Sieduto, bravo! Resta. Au, si, lascia. Sperati. Sieduto. 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 Ellen. Ellen, Ellen. Sieduto. Sieduto. Un minuto. Un minuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni, vieni, bravo, bravo, ha avversato una bella gallinella, ha attraversato il fiume, fucilata, non ho potuto darla subito, perché eravamo un po' alti rispetto all'altra riva, è abbastanza pericoloso, ho aspettato che si abbassasse un attimino, però probabilmente non l'ho colpita. Ellen, vieni, vieni, Ellen, vieni, bravo, vieni, 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 andiamo, vieni, bravo. Vieni, vieni, vieni. Ok, andiamo? Dai, andiamo! Andiamo, bravi! Andiamo, Ellen! Vieni, vieni! Andiamo, Ellen! Passi, 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 passi! Vieni! Vieni, vieni! Ehi, ehi, polizia, polizia, polizia Non ho capito perchè l'ha portato a te invece di darlo a me Il pagiano è il tuo Ma va che maledetta di una cagna, guarda te La porta agli altri e se non lo conoscevo Te lo portavo via Eh, me lo portava via Buono, buono Ehi... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.